Mario Draghi dice che la Banca Centrale Europea è pronta a potenziare lo stimolo all'economia se la disfatta dei mercati finanziari dovesse continuare a limitare la crescita e l'inflazione. La riunione della Banca Centrale Europea alla conferenza stampa del Presidente Mario Draghi di settembre 2015 in questo video con Fausto Panunzi, professore di Economia Politica dell'Università Bocconi in collegamento internet da Milano. Possiamo iniziare questo video dicendo che la conferenza stampa di settembre è stata la meno ottimistica tra quelle fatte dopo l'annuncio del quantitative easing. Draghi dice che le previsioni della Banca Centrale per la crescita e l'inflazione vengono riviste ancora a ribasso e poi cerca di tranquillizzare. Sappiamo bene come il Presidente della Banca Centrale sia un esperto a muovere i mercati senza fare nulla. Draghi infatti dice che la BCE è pronta ad aumentare lo stimolo per la lenta economia europea ma che ancora non c'è nessun piano per farlo. I mercati comunque ci credano, al solito in un primo momento reagiscono bene, l'azionario sale, i rendimenti obbligazionari scendono, l'euro cala al minimo di due settimane ma dura poco e visto che questo video lo registriamo non il giorno stesso della conferenza ma due giorni dopo possiamo dire che l'azionario europeo perde il 2,5% alla chiusura della settimana dopo un agosto che è stato il peggior mese dal 2011. Dunque Fausto a luglio c'era la Grecia, oggi la debolezza sui mercati finanziari, sulle materie prime e sulle prospettive dell'economia globale. Sono questi i nemici che Draghi si prepara ad affrontare adesso con la promessa di più stimolo, di più quantità di divise. Hai ragione in effetti nel dire che è stata la conferenza stampa caratterizzata dal pessimismo, quella più pessimista tra quelle recenti di Draghi e come ricordavi ha iniziato ricordando appunto che le stime di crescita sono peggiorate rispetto a quelle fatte alcuni mesi fa. Quindi si prevede una minore crescita del bil dell'economia europea e si prevede anche un'inflazione più bassa, segno di nuovo di una domanda stagnante, anche se su questo punto Draghi ha detto che il maggior responsabile dell'inflazione bassa è il calo nel prezzo del petrolio. L'altro fattore ricordato da Draghi nella sua conferenza stampa sono le fluttuazioni sui mercati finanziari e anche su quelle delle materie prime e tutti quanti sappiamo quello che c'è stato appunto sul mercato finanziario cinese per due settimane, anche se, questo va ricordato, Draghi ha ulteriormente imprecisato che le stime sono state riviste a ribasso il 12 agosto, quindi prima che si manifestasse tutto quanto la turbulenza dei mercati finanziari finanziari, in particolare quello cinese. Quindi certamente una conferenza stampa ispirata al pessimismo e Draghi ha detto, ha dovuto rassicurare in qualche modo i mercati dicendo che la Banca Centrale Europea è pronta ad affrontare un quadro peggiorato e ha detto che la Banca Centrale Europea è disposta a cambiare la durata, la composizione e la dimensione del programma di conti e divisi, quindi ha detto che eventualmente nel caso in cui ci fosse bisogno questo programma di acquisto di titoli potrebbe andare oltre la data inizialmente stabilita del settembre 2016 e che eventualmente potrebbe anche cambiare la dimensione totale e il ricordo di acquisto. Quindi da questo punto di vista Draghi ha tenuto a rassicurare che la Banca Centrale Europea è pronta a far fronte anche a questa situazione che sembra chiaramente peggiorata. La debolezza sui mercati finanziari, sulle materie prime, sulle prospettive dell'economia globale dipende in gran parte dal grado di severità del rallentamento dell'economia cinesi. Draghi dice che aspetta di avere una migliore visibilità sulla Cina. Quali sono le implicazioni di un severo rallentamento dell'economia cinesi sulla zona euro? Ci sono vari canali che sono obili. Il primo è chiaro, una minore domanda della Cina vuol dire una minore domanda per i paesi europei, quindi una minore esportazione verso la Cina o altri paesi emergenti e questo ovviamente colpisce ulteriormente le esportazioni europee e quindi dà un contributo al rallentamento dell'economia europea. C'è poi l'altro aspetto che riguarda il contagio dei mercati finanziari, c'è questa turbolenza sui mercati finanziari che naturalmente non rimane confinata ai mercati cinese o quegli asiatici, ma che si trasmette anche ai mercati finanziari europei e americani. Questo di nuovo crea dei problemi, Draghi ha detto chiaramente che se la turbolenza è davanti a questo modo ci sarà un cambiamento anche dell'avversione a rischio degli investitori, quindi questo si rifletterà anche sui prezzi dei titoli e quindi naturalmente sulla ricchezza degli investitori. quindi ci sono vari canali per i quali il rallentamento della Cina, il turbolenza delle cinesi si rispettano sulle nostre, che sono sia i canali reali, quindi attraverso le esportazioni delle merci, che i canali finanziari che appunto riguardano i mercati finanziari. Draghi è stato caldo su questo, non ha detto chiaramente se pensa che sia una turbolenza di breve periodo o di lungo periodo e ha detto che occorre ancora aspettare giustamente prima di capire se questo ha effetti permanenti o se invece si tratta di uno shock contingente. Però se anche in qualche modo, diciamo, fatto che si può traspelare una certa insoddisfazione per le valore sul cambio, quindi per la svalutazione che c'è stata dell'Iwan, perché in qualche modo non concordata e diciamo questo gioco delle svalutazioni è qualche cosa che sostanzialmente serve a scaricare il rallentamento delle prime globale sugli altri salvando se stessi, ma ovviamente è un gioco che tutti quanti adottano le stesse strategie, rischia di non beneficiare nessuno. Quindi la Cina è uno dei fronti da osservare nei prossimi mesi, ma ancora non è chiaro, almeno per la Banca Centrale Europea, quanto severo il problema sia. Tassi di interesse la Banca Centrale Europea li lascia invariati anche a settembre e ovviamente nessuno si aspettava un'azione sui tassi in Europa, mentre è in atto lo stimolo della facilitazione quantitativa. Le preoccupazioni invece riguardano casomai la Federal Reserve Americana, la Banca Centrale Americana, che ha iniziato a preparare i mercati a un rialzo dei tassi da tempo, ma che adesso forse potrebbe a sua volta guardare agli sviluppi in Cina ed aspettare ancora ad aumentare il costo del denaro, Paolo. Come sappiamo, fra circa due settimane ci sarà la riunione della Fed, il bordo della Fed, per esempio le cose a fare con i tassi e molti si aspettavano, si aspettano tutt'ora in realtà, un aumento dei tassi e diciamo la maggiore principale è che l'economia americana mostra segni di crescita chiari, le ultime stime sulla visita del PIL erano soddisfacenti, i tassi, il tasso di disoccupazione è caduto al circa 1%, una cifra che noi in Europa sogniamo occhi aperti e quindi sembrava che ci fosse tutte quante le condizioni per un aumento, per che invece c'è stata da una parte in cui tu ricordavi la turbolenza dei mercati finanziari, quindi che ispira una certa cautela. Dall'altra c'è un dato strano, se uno va vedere la crescita non del PIL ma dei redditi pagati a lavoratori e imprese americane, quindi se va a guardare un dato che in teoria dovrebbe essere lo stesso, vede che questo dato è molto più basso di quello che dice il PIL, è circa lo 0,6%, quindi sono due indici che dovrebbero dare lo stesso valore, ma che a causa del modo in cui sono misurati, a causa di alcune euro di isolazione, danno risultati che sono molto diversi e quindi potrebbe essere questo dato di che il PIL sia meno forte di quanto noi abbiamo percepito e sui giornali americani c'è questo dibattito, da una parte c'è chi dice che la FED non alzava i tassi, darebbe ormai l'impressione di non essere più credibile perché in questo momento viene continuamente inviato, dall'altra c'è i grandi economisti come Gary Summers o Paul Krugman che invece dicono che sarebbe un errore aumentare i tassi prima che sia chiaro che effettivamente l'impresa sia forte e stabile. Quindi Jack Yellen si trova a prendersione molto complicata perché viene spinta su ingrazioni diverse in maniera molto forte. Teniamo conto che in realtà la visione è meno drammatica di quanto noi pensiamo perché si tratta, secondo le stime di un certo parte degli analisti, di 25 punti base, non è che stiamo parlando di un rilasso dei tassi molto severo e quindi si tratterebbe di un piccolo incremento, però lo stesso sarà significativo capire quello che vorrà fare Jack Yellen e se la potenza degli ultimi dati avrà la meglio su invece quello che riguarda un quadro economico che penso che sembra decisamente migliore di quello che invece è quello dell'economia europea. Dopo il seppur cauto ottimismo conseguente al lancio del quantitative easing dell'Euro dunque ci troviamo di fronte a considerare che l'economia europea ha bisogno di aiuto e che c'è poco che la banca centrale possa ancora fare. Le parole di Draghi fanno bene ma difficilmente rianimeranno l'economia europea e potrebbero perfino non essere di grande aiuto quando arriverà la prossima crisi. Che c'è bisogno adesso? Draghi è stato molto esplosito ieri nel richiamare i governi alle proprie responsabilità, ha ricordato ancora una volta come fa sempre in conferenza stampa il bisogno di riforme strutturali citando esplicitando esplicitamente il mercato del lavoro e il mercato del prodotto e d'altra parte ha anche ricordato come ci sia bisogno anche di un'azione di bilancio quindi della politica fiscale. E anzi su questo è stato molto interessante perché Draghi nella conferenza stampa ha una domanda fatta da uno dei gesti in Patea ha detto che la politica fiscale dovrebbe in qualche modo ispirarsi alla politica monetaria, più precisamente dovrebbe passare da un meccanismo basato su delle regole, su dei parametri a un meccanismo basato sulle istituzioni. Draghi ha detto nella Banca Centrale Europea abbiamo condiviso istituzioni e abbiamo condiviso la sovranità, abbiamo accettato che ci sia un organismo al quale siedono tutti quanti i vari paesi, i vari centri dei vari paesi ma nella quale si prende decisioni poi a maggioranza, c'è un responsabile, c'è un board che decide e quello è appunto un modo che vincolo tutti quanti. Draghi ha detto che quello dovrebbe essere un modo, un modello da seguire anche, ovviamente adattandola alle esigenze diverse, anche per quello che riguarda le politiche di bilancio. In altre parole ha richiamato all'esigenza che ci sia un meccanismo europeo, diciamo europeo per quello che riguarda anche le politiche di bilancio. Non so quanto saranno accolte le parole di Draghi favorevolmente dai vari governi, sappiamo bene quanti governi nazionali sono gelosi delle loro progettive in materia di bilancio e quindi non so dire se effettivamente il modello della Banca Centro-Europea sia effettivamente anche esportabile a quello che riguarda la politica fiscale. A me sembra poter dire che vedendo anche il comportamento dei paesi europei di fronte alla crisi dell'immigrazione le parole di Draghi non verranno accolte tanto facilmente. L'economia europea dunque ha bisogno di azioni, non di parole. E un'altra cosa, abbiamo notato per la prima volta il problema dei migranti entrare dentro il dibattito della Banca Centrale Europea. Ovviamente la BCE non è che possa dire gran cosa, però per dire il dibattito è entrato e Draghi ha dato la sua solidarietà al problema. Questo per sottolineare che è un problema enorme che ci sta arrivando addosso e che dovremo affrontare nei prossimi anni. Grazie mille a Fausto Panunzi, professore di Economia e Politica dell'Università Bocconi da Milano e a voi per averci seguito. Arrivederci alla prossima. Grazie. Grazie.